Aspetta, vieni, ma che mi devi far vedere, mica Angelo? Premetto, io stasera sono venuto solo per rivedere te e un altro paio, perché degli altri... E questo onorevole Valenzani, la sua quede in televisione cambio canale, invece con te è diverso. Te sei sempre stato un'immagine legata alla simpatia e alla generosità. Ma lo vuoi girare? Ma che è? Come che è? Enzi Roni, tra i più famosi, pubblicato su tutti i cataloghi. Ma c'è il Sineviola? Certo, è del periodo pessimista, che è il più raro. È valutato 90 milioni, gli ha detto un regalo per 20. Capito? Ma che ce faccio? Come che ce fai? Soltanto il prestigio e la classe che ti dà. Questo se ti attacchi in ufficio c'è uno scatto da così a così. Come mi stai a coionare? Io c'ho un centro carni, se mi attacco questo parare che la metà carne guasta. Ma te lo metti in casa, fai un figurone. Io ce l'ho avuto in salotto per 20 anni, tu non sai quanto mi hai aiutato a me, le serate che mi hai risolto. È anche un argomento di conversazione, sai. Ah, c'è pure chi c'è il coraggio di parlare di questa grosta. Ma che scherzi. Infatti c'è pure chi dice, se c'è il Sineviola, di che colore c'è avrà il culo? Sì, turchese. Aspetta Walter, io lunedì, devo coprire un assegno, va bene, per quelli pesanti. Facciamo 10, 8. Ma che stai a dire, Tony? 4. Mi daresti un po' d'ossigeno. A Tony, ma che me lo so l'ha proprio a me? Walter, io ti giuro. Ma non giurare, lascia perdere, ma noi di che sei ridicolo. Ha, 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 ha.